Scusate Stupidi bastardi del cazzo! Uno dalle scale ragazzi, scale Nord Ovest Scale Nord? Ovest o Nord? Ok, assistenza! E infatti, lo vedi? Vedi ce l'avevo qua, mannaggia poi Mnaggia d'Andrea Perché è la vita, Andrea Non si corre, nei corridoi Sennò Fermo, fermo, tutti e tre dobbiamo andare Allora io c'ho il c4, buono un attimo No, io non vado Nemico trovato Vai! Oh! Bella con la c4 Ma che granata, il c4 ti tira Abbiamo il disinnescatore Ma quindi dentro c'è qualcuno? Trove pronto Aspetta se lo cascono in due da la Oddio che kill! Oddio! Troppo bello! Non puoi capire come l'ho fatto Troppo bello! непorato Rimangono 15 secondi Oh, ragazze! Sta solo su Echo 10 secondi Caprite per favore Ok, ho ucciso, ho ucciso No, hanno fatto due kill pazzeschi Va bene, va bene No, no No, no Ha fatto due partite pazzesche No, dovete vederlo Sono stati furbi a bannare Hanno scelto il site migliore Diciamo operatori Tranne d'acertar might a maverick Virgin non è quasi male Vabbè Lei c'ha ma fatelo nel dubbio Ecco, magari vieni su con me andrea Dove c'è l'altro Oh no, ho ucciso uno Mazza che healthshot Mazza Hai capito andrea No, ho fatto un healthshot Della madonna Stanno le lesion tutte fuori Che poi Mi stavo per far cavera Mi ha interrogato, mi ha interrogato Oddio Va in giro con Glaza Ma ti rendi conto? Intanto ne ho ammazzato uno Complimenti Ricarico È solo una puntura Ultimo nemico rimasto Gigi Gigi Ha 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 Niiice Un operatori ha rimasto Un operatori ha rimasto Un operatori ha rimasto Un uomo per la squadra alleata Un uomo per la squadra alleata Un operatori ha rimasto 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 non ho più un disinnescatore WTF yeah 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 oh my god that freaking hole I don't even know how I saw it found it GG no problem I cover you so well though nice la squadra d'attacco disarma una bomba disattivate il disinnescatore prego rega oh no è rascosto è in bagno in bagno sicuro a testa con tutto il muro che ha aperto no ma che cosa è successo? che gli ha salvato il c***o? però male l'aveva chiamato il bagno e no e che dov'era? che gli ha salvato il c***o? perché ti ha detto che mo' era là? ma io non ho ben capito sinceramente io ho visto uno dei nostri che mi sparava a me e tu probabilmente Max no io ho sparato a bandit e l'ho ucciso l'ho preso in testa con un colpo era lui che ha sparato a te ah ecco oh rega grande progito ragazzi tornate al site ma fai il giro del corridoio di là qua aspetta aspetta uè sta sulla porta di A no c'è il personaggio questo no olle headshot all for that lol this damn guy GG thanks no way what a comeback 20, 20, 20, left, pre-money GG my god you f**k jeez nice nice gg ordo wow this was heavy ok cool Grazie a tutti